Ciao! Se cerchi una casa da comprare a Salerno, giovanile e diversa dal solito, allora seguimi! Grazie a tutti! Ti è piaciuta? Bene, è vicinissima al quartiere Cittadella Giudiziaria e può raggiungere facilmente a piedi il porto turistico per andare in traghetto nella costiera maffitana e nel Cilento. L'ideale per un single o chi vuole fare un valido investimento nella città di Salerno. Clicca qui sul link qui sotto. Ciao!